Allora siamo arrivati alla terza parte, ultima parte, scusate stasera mi sono dilungato ma l'argomento è molto corposo, molto accattivante, nel frattempo mi sono mangiato la mia dose di lupini e parliamo del fruttosio e degli pseudocereali. Il fruttosio è lo zucchero della frutta, è gemello del glucosio, è più cattivo del glucosio, più cattivo nel senso metabolico diciamo. Dobbiamo distinguere il fruttosio della frutta, che è il fruttosio buono, e il fruttosio industriale, che viene utilizzato dall'industria, che produce alimenti conservati e lì non si sa quale c'è e quanto ce n'è, quindi attenzione a quello. Il fruttosio della frutta invece è un fruttosio buono, relativamente buono, perché contiene nel frutto degli antidoti naturali, che sono le fibre, sono le vitamine, gli antiossidanti, che ne attenuano gli effetti negativi. Quali sono questi effetti negativi? Il fruttosio viene assorbito, se ne frega di fungere da fonte energetica come il glucosio, passa direttamente nel fegato e viene trasformato in trigliceridi. I vantaggi, quindi per attenzione, se ne mangiamo troppo, troppi trigliceridi. Il vantaggio che ha, qual è il fruttosio? È che non risveglia l'insulina, quindi non alza le glicemie, quindi è utilissimo per i diabetici. Purtroppo non stimola la produzione di leptina, che è quell'ormone che viene prodotto a livello centrale dall'archi cerebellum, dal cervello più antico e che ci dà il senso di sazietà. Però diciamo che fra vantaggi e vantaggi un buon abbinamento glucosio-fruttosio ci sta pure. Sapete che lo zucchero da cucina è formato per 50% da fruttosio e 50% da glucosio. Allora come è meglio consumarlo? È meglio consumare il frutto intero, certo la frutta va consumata quando? La mattina magari, come spuntino o a colazione insieme ad altre, in una colazione mista. Meglio evitare di consumarla nella fase pomeriggio-sera, rispettando i principi della cronodieta. Va consumata preferibilmente da sola, sapete ci sono frutte, c'è frutta con più calorie, frutta con meno calorie, ma di questo possiamo parlare un'altra volta. Poi non va mai, non è consigliabile consumarla a fine pasto perché spesso la digestione difficile ostacola i processi digestivi già iniziati, che so, della pasta, della carne, del pesce, delle uova, dei formaggi che avete mangiato prima. Poi esiste tutto il mondo della moda, delle novità, si parte dagli estratti, frullati, centrifughe, spremute e fruttosio, ditti succhi industriali. Allora i migliori sono gli estratti e i frullati perché lì conserviamo gran parte, conserviamo tutta la fibra, le vitamine e gli antiossidanti, già scendendo giù per esempio con le centrifughe perdiamo gran parte della fibra, scusate, con le spremute c'è solamente acqua e zucchero, acqua e fruttosio e questo l'abbiamo già detto. Lasciamo perdere, stendiamo un vero pietoso sul fruttosio ad uso industriale perché ne abbiamo già parlato ed è un vero e proprio veleno. Due parole sugli pseudocereali, pseudocereali perché sono praticamente a metà strada fra i cereali e i legumi. Sono quinoa, amaranto e grano saraceno, lo sapete. Fanno bene? Sì, fanno bene. Sono acchicchi, spesso più piccoli del normale grano o dell'orzo, fanno bene perché hanno dei grossi vantaggi rispetto ai cereali perché sono come dei cereali proteici. In effetti le proteine ce ne hanno tante e sono proteine nobili, cioè ricche di aminoacidi essenziali. I cereali hanno poche proteine, sono proteine un po' più povere, un po' più diciamo plebee. Hanno più fibra dei cereali, hanno più minerali. Ci hanno poi Golden Star, ci hanno gli Omega 3, acidi grassi polinsaturi, cosa che invece non hanno i cereali. E vantaggio, non hanno glutine, hanno invece, cosa che invece hanno i cereali, hanno glutine, quindi utili per i celiaci. Ultime due cose, negli pseudocereali ci sono lo squalene, che è quello che sta nel fegato di squalo, lo dice il termine, e che è molto utile, contiene la cisteina che, no scusate, lo squalene produce il sebo e il sebo ha un effetto protettivo anti-age per quello che riguarda la pelle e poi oltre allo squalene c'è la rutina e la rutina è la cosiddetta vitamina P che difende il microcircolo capillari, vene varicose, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine, prima di salutarvi, domanda, è un piatto buono la pasta in bianco? Sì, è buono, ma può essere molto rischioso, perché un etto di pasta in bianco da 350 a 360 calorie può arrivare a 500 calorie se esagero con il parmigiano, esagero con il burro se esagero con l'olio extravergine, allora piuttosto che fare la pasta in bianco mi mangio un piatto, gli stessi 100 grammi di spaghetti abbinati con qualcosa che ne frenano l'indice glicemico. Che cosa pensiamo? I funghi, va benissimo, posso abbinarli con le zucchine, posso abbinarli con cucinarli, condirli con un filo di olio e un pochettino di broccoli, posso utilizzare l'abbinamento col pomodoro fresco che frena tantissimo l'indice glicemico della pasta. Quindi l'abbinamento col tonno, l'abbinamento con lo sgombro conservato in barattoli, diciamo in acqua, in salamoia, non in olio. Quindi abbinatela a qualcosa che ne frena l'indice glicemico. Ci sentiamo domani, ciao!